Consiste nella distribuzione di pasta gratuita, quindi le persone che si sentono in difficoltà e comunque non se ne vergognino di far sapere che hanno problemi, possono venire qui e prendere della pasta gratuitamente. Confezioni di pasta distribuite gratuitamente alle persone in difficoltà a causa della crisi. Questa è l'iniziativa di Casa Pound del Friuli Venezia Giulia che con alcuni volontari ha allestito un punto di distribuzione alla base del viale 20 settembre. Principalmente le famiglie italiane perché noi siamo dell'idea di dare la priorità ai cittadini italiani. È un'iniziativa contro il caro vita per la situazione dove uno Stato non è vicino ai suoi cittadini. C'è un'iniziativa che abbiamo promosso in tutta Italia e in una mattinata comunque sono già andati 30 kg di pasta. Quindi penso che a Trieste fosse un segnale che è stato capito e ci fa piacere. E continueremo comunque a mandare avanti iniziative così proprio perché per star vicini alla popolazione.